Eccomi con la settimana del mistico numero 4802, la vedete? Ecco, di questo numero ho pensato di risolvere un indovinello. Ecco, più che altro vorrei fare un invito alla pagina della Sfinge, che ripeto, la pagina della Sfinge si trova a pagina 3, eccola qui, a pagina 6, eccola qui, e a pagina 45. Eccoci, allora vorrei invitarvi a risolvere questi giochi, perché sono divertenti, e poi anche qualche volta sono proprio accessibili, anche se sembra di no. Allora risolveremo l'indovinello che si trova a pagina 45, indovinello di Ribben, il venditore respinto, questo è il titolo, quindi sembra che parli di un venditore respinto, messo alla porta si farà sentire. Eh sì, uno che vuole venderti qualcosa viene messo alla porta, però continuerà a parlare così. E no, non sta parlando di un venditore, ma di un'altra cosa. Usualmente quando nel titolo c'è una persona, non è una regola fissa, in realtà parla di un oggetto. E allora cos'è che messo alla porta si farà sentire? Beh, a questo punto con le premesse dovrebbe essere semplice. Cosa viene messo alla porta e si farà sentire? Vabbè, anche qua potrebbero essere due cose, potrebbero essere il citofono oppure il campanello, ma io direi proprio il campanello perché viene messo alla porta e quello lì si farà sentire. Il citofono ci farà sentire, non si permetterà di sentirsi. Quindi la risposta io direi che campanello e questo gioco è risolto. Quindi risolvete anche voi, ci sono nella rivista sicuramente altri indovinelli, indovinelli, ecco adesso non li trovo naturalmente, ecco ce n'è uno, sempre di un verso a pagina 3 e quindi risolvete anche quelli, affrontateli, vi divertirete. Ciao!